Dopo Santiago Morero la difesa bianco-verde si arricchisce di un altro centrale difensivo argentino, Julian Illanes Minucci, classe 97, cresciuto nel settore giovanile dell'Istituto Nacional de Córdoba, club della sua città e lui l'ultimo volto nuovo della rosa bianco-verde. Con la casacca del club argentino esordito in primera a Binaziano dal collezionato di un duro presenze totali ed un gol, nel gennaio 2017 è arrivato il trasferimento alla Fiorentina con la quale ha partecipato al campionato primavera. La scorsa stagione è stato girato in prestito all'Argentino Juniors prima di ritornare a Firenze. Giuliano Laezza è un altro dei giocatori arrivati a rinforzare il reparto arretrato. Il calciatore ex regine Leonzio è un autentico mastino. Il 25enne partenopeo ha giocato anche con le maglie di Arzanese, Gubbio e Savoia. Positiva all'esperienza siciliana, così come quella di Reggio, in cui ha collezionato 36 presenze e messo a segno due reti, indossando anche la fascia di capitano.